E questo è The Lost Weekend. La piscina è al ridosso del Belvedere e ha la forma di un fagiolo. Se si scende in acqua servendosi della scaletta si è in territorio californiano. Ma basta fare un paio di bracciate verso la sponda opposta per ritrovarsi in Nevada. Il confine federale divide in due il colmivo a loggio come fosse la lama di un taglierino. Avanza senza risparmiare nulla. Detratti, frigoriferi, macchine da caffè, pateti, piscine, cammini in pietra, nuole apparecchiate. Solo il casino, e non è un caso, è interamente in Nevada. È la mattina del 28 luglio 1962. Sinatra è seduto in costume da bagno su una sdraio lungo il bordo piscina. Legge il giornale. Pare il ciliato. Forse è semplicemente infastidito dal riflesso del sole sugli occhi. Sebbene abbia 47 anni, ha un topè appiccicato al cranio e da qualche tempo soffra di impotenza, il suo fisico smilzo per certi aspetti è ancora puberale e maschera brillantemente segnale. Gli anni bui sono definitivamente alle spalle, l'irrequetezza no. Cerca di combattere le insonnie a forza di alcol e psicofarmaci sul palco. Tra una sofisticata canzone d'amore e l'altra, continua a prendersela con quei giornalisti, specialmente donne, che passano il tempo a frugare nella sua vita privata, tirandone sempre fuori qualcosa di maleodorante. Dall'ora della troia e della frigida, le minaccia, le mette in ridicolo, fino a quando, con uno schiocco delle dita, non ordina l'orchestra di reimmergerlo in quel popore di archi che avvolge ogni sua esibizione, ritrovando in un colpo tutta la sua compassata eleganza. Parlando di sé, Sinatra si definisce un uomo simmetrico, è di sicuro un maniaco dell'igiene e dell'ordine, capace di restare in piedi per ore pur di mantenere immacolata la rigidità del type, quella rigidità che a suo modo di vedere rappresenta l'essenza stessa dell'eleganza. Il pubblico predilige il nero, anche se il suo colore preferito è l'arancione nelle sue infinite sfumature d'albesca al salmone scuro. Si tratta però di un colore privato, che Sinatra riserva solo a se stesso o a qualche ospite femminile di riguardo. Sinatra non è solo in quella soleggiata mattina di fine luglio. Alle sue spalle, seduto su una balustra di legno, Peter Lawford osserva il movimento dei clienti del resort e ogni tanto scambia qualche battuta con Batti Greco, il suo manager. Sinatra non rivolge la parola a Lawford. Dal giorno in cui il cognato JFK ha deciso di preferire l'ospitalità di Bill Crosby alla sua durante la tappa a Palm Springs della campagna presidenziale. Ma la scena tornò al colniva. Si popolera presto di altri personaggi. Figure spettrali sfuggenti da cui presenza non verrà mai confermata figure capaci di tingere quell'ultimo weekend di luglio di una luce fosca e incerta Bobby Ken, di La Cia, Giudi Maggio i mafiosi Sepp Giancani e Giordi Rossetti. E' come se tutte le facce dell'America che conta si fossero date appuntamento in quell'angolo incantevole non per sfidarsi in campo aperto ma spinti dal bisogno comune di proteggere il proprio stazio vitale messo in pericolo dalla scelleratezza di una donna ferita. Una donna a cui ogni giorno è un lavoro per leggerezza, per interesse svelato all'oruro nascosto. Il gruppo di amici è ancora intorno alla piscina quando la limosina scura dai finestrini fumè si ferma di fronte all'ingresso del resort. Dal sedile posteriore scende bene l'humore. La donna è lei. L'attrice vestita di verde dalla testa e piedi gli occhi nascosti da un paio di occhiali da sole e il capo coperto da un fulano mostra una freschezza insospettabile nonostante la rottura con i fratelli Kennedy e degli aborti le continue verdose di psicofarmaci e il ricetto allontanamento dalla Tuentis e Tuifonics. Ma se Marilyn è al capolinea come sostengono in tanti almeno quella mattina riesce a nasconderlo con inaspettata energia la sua ondatura è ancora un ingranaggio perfetto rodato in anni di pratica il tacco di fronte alla punta dell'altra scarpa i fianchi mobili il busto rigido ma di greco non riesce a toglierle gli occhi di grosso e pensa pensa di non aver mai visto una donna così bella vestita così male. Eppure è proprio lui che Marilyn corre ad abbracciare per primo il giovane cantante dallo stile aggressivo che affronta The Ladies a trap con il piglio sfacciato di un hipster davvero ti ricordi di me? le chiede greco e sterrefatto roggendo lo sguardo verso l'obiettivo del suo manager che non perde l'occasione di mortalare la scena Marilyn annuisce e appoggia il volto sulla spalla di greco annicchiandosi contro il suo petto civettuale pura come sempre quando si trova di fronte a un uomo a questa non piaccia di Gesù greco sorride soddisfatto ma solo a distanza di anni dopo che tutti i personaggi presenti in quella scena saranno morti si renderà conto di come quel breve contatto sia stato tra i più intensi della sua vita uno di quei rari istanti di totale pagamento né quando il desiderio si sovrappone con naturalezza alla vita reale per Marilyn invece greco non è altro che un barco d'accesso il punto più molle nel muro di ostilità che ha percepito di fronte a sé scendendo dalla limusina qualsiasi esperienza con un gruppo di persone implica una negazione ha scritto appena qualche giorno prima con la sua solita seriosità introspettiva nel proprio quaderno di appuntio io non sono mai stata brava a far parte di un gruppo prende all'oggi in uno dei bungalow del colni e va riservata alla clientela di riguardo giusto accanto al bungalow di Sinatra osservata a vista da Longford e da sua moglie Bud Kennedy appena entrata supera di slancio il letto circolare su cui più di una volta in passato ha fatto l'amore con Sinatra spalanca la porta a vetri in veranda si sfila occhiali folare un gesto spontaneo che si rivela però un azzardo nel riverbero del lago col tripudio di luce di colori che la circonda di colpo rappresenta un'esplosione di vita eccessiva per i suoi sensi scossi dall'insonnia e dall'ansia Marylin non resiste più di qualche secondo rientra la svelta in camera accosta le tende e si stende sul letto buca con uno spillo le capsule di Nembital che il dottor Engelberg le è prescritto prima di partire da Los Angeles e cerca di fare ordine tra i suoi sogni la notte sopraggiunge in un attimo sul trentottesimo parolivelo Marylin non se ne accorge nemmeno l'ultimo film è girato dall'amoro e mai portato a termine c'è una scena perfetta per spiegare l'attenzione carica di nervosismo creatasi attorno a Marylin durante le ultime settimane che precedono la sua morte nel film è sera i rumori provengono dal giardino di casa Dean Martin si sporge dalla finestra e quel che vede lo lascia di sasso la piscina appena illuminata dalla luce della pioni è immersa in un'atmosfera fatata dalle tinte tropicali la morro nuota nell'acqua euforica ubriaca e quando si tira su Dean Martin si rende conto che è completamente nuca la famosa scena della piscina quattro ore di spontaneo erotismo che Marylin in vena di follie e assettata di pubblicità concede ai fotografi agli uomini della troupe Dean Martin impacciando non sa come comportarsi si guarda intorno facendo alla donna di ricomporsi e nello stesso tempo non riesce a staccarle gli occhi di doso poi poi si decide a lanciarle in un accappatoio copriti lo prenderai freddo si raccomanda la stessa premura velata d'ipocrisia a cui Marylin risponde sempre più spesso con un isterico risolino un'alzata di spalla il suo marchio di fabbrica stavolta però non è il suo come può creare imbarazzo neppure la sua inquaribile promiscuità a quello di cui lei ha sempre avuto più vergogna la voce la parola un'arma che non sapeva di avere e che ha scoperto di poter usare la morro conserva un tacuino un comune tacuino dalla copertina rossa e la rilegatura spirale sopra ha notato novi e confidenze ricevute durante i suoi incontri con i kenni di Castro la mafia la guerra fredda uve roffa i test atomici il lato oscuro di Sinatra Marylin trascrive penuziosamente tutto quello che i due fratelli le raccontano tra un peln un amplesso e l'altro per compiacere per apparire i loro occhi preziosa e non un semplice oggetto sessuale ora ora quel tacuino rosso è una bomba pronta ad esplodere porcata con disinvoltura in una borsetta di Coco Chanel tra le confezioni di Demeroll e gli ombretti Estée Lauder incapace di odiare l'amore ha reso me l'invendicativa proprio lei che lo smette di riveltere di avere una memoria strabiliante per dimenticare il rischio è che la bomba finisca per esploderla in mano gli amanti la mettono in guadria coprimi io prenderai freddo glielo dice Sinatra glielo dice Gio Di Maggio glielo ripete John Kennedy e suo fratello Bob glielo dice perfino Momo Giancana a nome della malavita con l'aria indeciprabile di un vecchio zio di cui non si conoscono il passato e nemmeno le intenzioni e poi Marilyn si ostina a cingillarsi con la sicura della bomba con l'imperativo perdo il suo carattere protettivo scompare il velo di pudore che lo sguardo affettuosamente è partito di Tim Martin e riesce ancora a ispirare nelle poche scene malattie di santi di scatto di chi diventa morte una minaccia e una volta morta sarà il rimpianto con cui il mondo si libererà di lei ed è proprio senza di colpa questa è una storia di presenza si diceva prima mancando però un disegno di insieme che possa illuminare una volta per tutta la scena è anche una storia di particolari da cui ci si aggrappa nell'illusione di poter riscarare le ombre il verde limone dell'abito di Emilio Pucci blusa più pantalone indossato da Marilyn nella mattina del suo arrivo sul lago Tahoe la stessa gradazione di verde con cui appena una settimana dopo l'attrice verrà sepolta il bungalow numero 5 dove la morro trascorre segregata gran parte della sua permanenza al col Niva e poi ancora il tavolo di Sinatra il secondo e il terzo da sinistra dando le spalle all'agua a seconda delle fonti in una sala che è qualcosa della stazione termale della sala all'aspetto il portatovagliolo col nome di Sinatra stampato sopra le fish col nome di Sinatra stampato sopra il col Niva appisolato nelle prime ore del pomeriggio le voci riverberate dalla calura della controora la cucina appena riordinata dopo il pranzo odore di canfora e di ammoniaca i merieri cuochi intorno a un tavolo di acciaio simile in tutto al ripiano di un auditorio le maniche della camicia rivoltate il telefono squilla un suono acuto che increspa l'immobilità della scena è Peter Lofford il renegato tutti al col Niva sanno della vicenda di Palm Springs e di quanto Sinatra lo odi il tono di Lofford è concitato chiede un caffè al bungalow numero 5 il bungalow dell'amorro in fretta si raccomanda c'è una persona che sta male non lo dice chi l'acqua non bolle ancora quando il telefono squilla di nuovo stavolta la luce perentoria di Sinatra grida dove cazzo è finito quel dannato caffè tocca Ines occuparsene la giovane cameriera messicana assunta per la stagione estiva si precipita passi brevi lungo il sentiero di pietra che dal ristorante si spinge verso gli alloggi delle celebrità la piscina a quest'ora è deserta sulla superficie dell'acqua la pagina di un giornale galleggia ormai illegibile volata via da una dell'estraio sul bordo vasca bungalow numero 5 inespossa nell'attesa che qualcuno venga ad aprire vorrebbe darsi una sistemata alla divisa controllare che la cuffia sia in ordine ma le mani occupate dal vassoio e nulla intorno dove poterlo appoggiare e allora si limita a una breve scrollata del capo come voler togliere via con un colpo solo i segni della fatica e dell'agitazione e la porta si succhiude appena e sulla soglia appare Pat Kennedy Lawford la sorella del presidente la moglie di Peter il punto d'incontro di due mondi che continuano a flertare e a combattersi a Ines Patricia sembra più alta di come appare sulle pagine dei rotocalchi le sopracciglia folte le danno un'aria severa vagamente mascolina da istitutrice per un attimo Ines la immagine indivisa a distribuire caramelle allo zenzero lungo il corridoio in un orfanotrofio la Lawford ringrazia spregativa e le tira via il vassoio dalle mani come se su quel vassoio non ci fosse poggiata una banale tazza di caffè bollente ma un cuore palpitante pronto a infondere nuova vita fa bene chiudere la porta quando si rende conto di essersi dimenticata della mancia si volta indietro in quella camera buia che sa di chiuse di dolciastro quel particolare sapore che lascia nel bocca le medicine le ombre di suo marito e di Sinatra sorreggono il corpo della Monroe su e giù per la stanza una processione privata di due uomini che non hanno più nulla da dirsi ma che le circostanze hanno reso di nuovo complici una trama perfetta per un dramma di tennis e voi inespeve tutto e prima ancora che patricia si metta alla ricerca del borsellino si congetta da lei con un breve cenno del capo una specie di anchino stilezzato la sera il lowford la morro il Sinatra si vedono tutti assieme a un tavolo riservato della celebrity room il teatro fatto costruire apposta da Sinatra per sei suoi ospiti sul palco badigrego appena terminato di cantare I love being here with you un successo di Peggy Lee riadattando il testo per l'occasione un modo simpatico per ringraziarsi gli amici presenti in sala il Sinatra non si accorge nemmeno di essere citato in una strofa della canzone è curioso inavvicinabile Marilyn accanto a lui non si legge sulla sedia sfatta terrorizzata piace che a frasi senza senso oriste isterica quando sente Greco cantare I love to trip to other space with Miss Moreau Princess Grace si tira su per lanciargli un bacio ma scivola e per non cadere si aggrappa alla giacca di Sinatra sgualcendo la irrimediabilità per Sinatra il maniaco del decoro e della stigatura è tuo chiama Cucchi una delle sue guardie del corpo e tra gli sguardi scandalizzati del pubblico gli ordina di accompagnare Merito fuori dal teatro prima ancora che Greco abbia terminato le sue scelte che cazzo avete tutti quanti da guardare grida l'amore e il suo congetto con tutta probabilità quell'ora il mistero che avvolge l'ultimo weekend dell'amoro si era mai continto Sinatra Ciancani Robert Kane di Lofor presenze reali o semplici apparizioni devono avere già messo in atto la loro opera di persuasione ma con che tono con che sguardi e dove attorno a un tavolo appartato dell'esclusiva Indian Room o sbattendo Marilyn su un letto di una camera mobiliata lontano da occhi indiscreti come una sguadrina qualsiasi qualche giorno dopo Sinatra consegnerà a Billy Woodfield un fotografo di Hollywood un rullino da sviluppare scattato durante la serata Woodfield rimarrà sconvolto da quello che si troverà davanti nessuno però saprà mai se quelle foto fossero la testimonianza inquietosa di una diva sfiorita per sempre o la sequenza di uno stupro di gruppo perfettato sotto gli occhi compiacenti dei suoi ospiti ci sono omicidi che non hanno colpevole troppe le mani armate per distinguere chi realmente ha sparato il proiettile mortale come durante le secuzioni si spera sempre che il proprio fucile sia uno di quelli caricati a salve la notte la notte del 28 luglio 1962 sulla sponda nord del lago Tahoe Merlin Moro scopre di colpo il volto spiegato di chi in tempo l'ha desiderata e realizza di avere paura è quasi l'alba quando Paddy Greco la scorge per l'ultima volta ad ondolarsi avanti e indietro sul bordo della piscina i piedi nudi lo sguardo assente rivolto verso le colline oltre la recensione dove un uomo forse lo stesso di maggio forse un semplice purista la sta osservando immobile a Greco non occorre molto per capire che non è più la stessa donna incontrata poche ore prima nello stesso punto una lenta dissolvenza oscura il seguito l'alba e la partenza di Merlin debole al punto da costringere l'offord da sorreggere la ful sulla scaletta dell'aereo che vi riporterà allo Zengles da quel momento in poi ogni gesta avrà il sapore di un addio ciò che resta è una storia monca incerta persino sul titolo un banale refuso ha trasformato l'ultimo weekend nel weekend perduto accentuando il senso di mistero e di rimpianto e corre perciò tornare ai particolari a quel pugno di scheggi abbandonate lungo i corridoi del tempo per tentare se non di bastire una trama verosimile almeno di colorare i contorni circondato dalla sua grazia equivoca ecco ad loro apparire dal fondo della scena il volto anzimato di Polschini da madre il mafioso gentiluomo colui che ha trasformato il giovane Francis in Frank Sinatra distruendolo su come tenere in mano una sigaretta e come scambire il tempo con le dita come vestirsi e come afferrare un microfono di sicuro di sicuro c'è solo una cosa afferma Schini testimone oculare di quella notte di luglio in cui tutta l'America che punta si qualizzò a difesa dell'ordine costituita in quei giorni alcolniva successe più di quanto sia mai stato raccontato Schini non aggiunge altro fingendo di inseguire qualcosa che di colpo ha tirato la sua attenzione esce in fretta dall'inquadratura gli occhi preoccupati di chi teme di aver dettagliato grazie 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 grazie